ciao amici per realizzare i miei bignè cioccolatino avremo bisogno di 25 grammi di burro, 2 uova, 60 ml di latte e 50 grammi di farina 00 un pizzico di sale per la farcia e la copertura invece 200 ml di panna liquida per dolci, 200 grammi di cioccolato bianco, 200 grammi di cioccolato fondente, la crema di pistacchio, in un pentolino versate prima il latte, poi unite il burro, lasciate sciogliere e bollire intanto preparate il sale con la farina e versate di colpo nel latte questo è il composto che dovrete ottenere, si dovrà staccare dalle pareti lavoratelo un po' questo composto per farlo raffreddare in una ciotola a parte rompete le uova e sbattetele questo è un passaggio molto importante in questo modo l'albume non crea problemi unire l'uovo sbattuto poco per volta fino a ottenere un composto così lucido e denso inseriamolo in una sac a poche questo composto e poi creiamo delle piccolissime palline su una teglia rivestita di carta da forno leggermente imburrata con un dito unto di poco olio spingiamo le punte verso il centro e inforniamo a 220 gradi per i primi 6 minuti e per i successivi abbassiamo la temperatura a 190 gradi saranno pronti quando la superficie si presenterà ben dorata e soprattutto saranno molto leggeri come una nuvoletta adesso apriamoli e farciamoli come? sciogliamo il cioccolato bianco aggiungiamo della crema di pistacchio naturalmente secondo i vostri gusti e farciamo i nostri bignè prepariamo la ganache per la nostra copertura spezzettiamo ulteriormente il cioccolato e lasciamolo sciogliere a bagnomaria un po' lo mangiamo anche versiamolo nella panna riscaldata e otteniamo questo composto una ganache perfetta e lucida immergiamo i nostri bignè nella ganache e sistemiamoli su un piatto mi raccomando sporcarsi le dita è un obbligo eccoli pronti terminiamo con qualche decoro al pistacchio e cioccolato bianco adesso la parte più difficile l'assaggio appena fatti cari amici il ripieno sarà morbido con il riposo sarà un vero e proprio cioccolatino decidete voi come mangiarlo buon appetito ciao iscrivetevi sul mio canale youtube e grazie a chi lo ha già fatto alla prossima